la croce e la continuità delle sofferenze di Gesù si ritrova anche in San Roberto Bellarmino morto nel 1621, si ritrovi nel 1622 una scelta piuttosto che un'altra come quella c'è chi dice giustamente senza soldi non cambierete niente, né ora né mai gli aspetta una lunga servitù, spiacente sicuramente il denaro fa tanto, senza ombra di dubbio partire con la mente attuale in realtà, però sono anche molto d'accordo in realtà con te la teca presi, basta basta, una bella matriciana, una bella carbonara, una bella... Radio Italia, anni 60 la radio delle tue emozioni i capellacci felici di essere ancora in vostra compagnia per meditare quest'oggi il messaggio delle sacre scritture così come possiamo leggerlo nel Vangelo di Giovanni precisamente al capitolo faccia a faccia con il presidente un bambino emigrato è stato colpito con il calcio all'addome da uno perché si era avvicinato al filo il passagino, è accaduto nel centro di Cosenza il maurino di origini urdo africane è stato immediatamente soccorso alle passanti che hanno alertato la polizia anche l'italiano sarebbe coinvolto nella vicenda che riguarda il manager Rosso Alexander Corso che lascia così la competizione questa è l'ebracchi news di TG com 24 per brindare all'estate ma con duchessa via naturalmente con asti secco con agosto filmati da oprili su duchessalia.it duchessalia nobili vini del Piemonte Radio Montecarlo medio una buona serata da Serena Giacomina agli ascoltatori di Radio Montecarlo come sempre a quest'ora i numeri della borsa Fuzzimil meno 004 per cento da un giorno statuniti in questo zero e noi finalmente anche nella seconda sessione di Provi Libere ma soprattutto da Charles Leclerc il ferrarista fresco vincitore sul leggendario circuito di Spa Francorchamps «Contro?». Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.